Niente variazioni agli orari delle corse sul Mona Roma fino a fine anno. Ad annunciarlo il capogruppo di avanti sul Mona Fabio Pingue, che si è attivato in sinergia con l'assessore comunale Antonio Angelone, per scongiurare i tagli, ha chiesto l'Umi sullo spostamento del terminal bus della stazione Tiburtina della Capitale alla fermata di Anannina, che potrebbe complicare ulteriormente la situazione per i pendolari. Una vittoria solo temporanea, perché con l'anno nuovo i viaggi continueranno, ma Pingue rimarca che a prevalere è stata la politica dei fatti. Grazie al lavoro svolto in sinergia con i rappresentanti riaccomitatori pendolari del consigliere delegato Marizzo Di Nicola e dell'assessore Angelone fino a fine anno, gli orari degli autobus in direzione Roma non subiranno alcuna modifica, rimarca il consigliere, spiegando che ciò è immediatamente riscontrabile sia su Portare Tua e Sangritana. Prima della fine dell'anno e dell'entrata in vigore del nuovo piano integrale di mobilità regionale, insieme ai rappresentanti del comitato e al consigliere Di Nicola rivedremo gli orari che riguardano Sulmone e Pratola. In ogni caso ci impegneremo a far sì che gli orari che ci sono stati indicati come sensibili dei rappresentanti del comitato le corse in partenza da Sulmona delle 5.4 con arrivo alle 7.10 e quelle con partenza le 6.24 con arrivo alle 8.30 e le corse di ritorno da Roma con partenza le 15 arrivo alle 17.7, con partenza le 17.50 e arrivo alle 19.57, con partenza le 19 e arrivo alle 21.7 verranno garantiti. Inoltre, conclude Pingue, chiedo al consigliere Di Nicola di vigilare sulle voci che potrebbero vedere spostare il termine della stazione Tiburtina da Nannina con gravissimi disagi per i pendolari abruzzesi.